Le direttrici sulle quali mi vorrei muovere per questa tavola rotonda sono due, la prima riguarda il presente, la seconda riguarda il presente e il passato, quindi quello che è stato fatto in termini di welfare aziendale nelle vostre aziende, quali sono le pratiche quindi le best practice, che voi ritenete best practice, quali sono gli strumenti, quali sono state le criticità e qualche parola sui risultati, quindi sul monitoraggio dei risultati. La seconda direttrice invece riguarda il futuro, si è parlato tanto oggi di welfare di territorio, di mettere a fattor comune le risorse, le energie per fare rete e quindi aiutare anche le piccole e medie imprese che difficilmente riescono a implementare delle buone iniziative di welfare aziendale e quindi innanzitutto il vostro parere personale su questa cosa, mi piaceva un po' chiudere, lanciando qualche prospettiva sul futuro del welfare e poi se voi avete in atto, avete intenzione di implementare qualche iniziativa in questo senso. Partiamo dalla prima domanda, quindi il welfare ieri e oggi, andiamo in ordine alfabetico, quindi direi che partiamo da Rosalba D'Ambrosio. Buonasera, anzi buongiorno a tutti, adesso abbiamo quest'ora e questo sole fuori. In realtà appunto Vodafone, non sto raccontarvela perché immagino che come società di telecomunicazione ormai nel bene e nel male la conosciate tutti, ha una storia di welfare aziendale che viene da lontano, parliamo di Olivetti, parliamo di Ivrea, parliamo anche di un legame con il territorio, visto quello che citava Valentina, molto forte. Il welfare aziendale in realtà da noi è la somma, come presumo in moltissime aziende, quelle che rappresentate voi, di una serie di quelli che una volta si usava a chiamare benefit, quindi adesso li chiamiamo welfare, però stiamo parlando di quelli, che sono che vanno da quelli contrattualmente definiti con le parti sindacali a quelli unilateralmente concessi dall'azienda alle proprie persone, agli strumenti più innovativi che riguardano i flexible benefit. In realtà se parliamo a un passato molto recente, noi circa tre anni fa abbiamo introdotto i flexible benefit e con non poche criticità, nel senso che noi sappiamo parlando di criticità del mondo welfare che appunto di nuovo il nostro fiscalista Diego Pacello oggi ce lo confermava, la normativa sia da un punto di vista fiscale che appunto normativa del lavoro è molto, come dire, manca in questo contesto, molto confusa, una serie di interpelli, a volte creano confusione, a volte invece danno un po' di lumi, quindi diciamo muoversi in questo ecosistema con poche regole e diciamo anche poco chiare è veramente difficile. Però siamo riusciti a partire con un pilota e a raccogliere, quindi questa è la prima criticità, dei consensi non indifferenti. La seconda criticità è stato il rapporto con le parti sindacali, quindi spiegare non solo alle persone che non c'era nessun tipo di fregatura nel proporre un piano che si chiamava welfare e che aveva determinati vantaggi tanto per l'azienda quanto per il dipendente, ma anche ai sindacati, quindi per spingere, per valorizzare gli sforzi e gli investimenti aziendali. Non ultimo oggi, cerco di essere ipersintetica, non ultimo oggi ed è un argomento che l'avvocato ha trattato precedentemente, abbiamo lanciato nell'aprile 2014 il benefit per eccellenza, lo smart working, perché in realtà abbiamo scoperto che nella conciliazione perenne della vita professionale e vita personale, lo smart working è, non dico la chiave di volta, però un elemento, una dimensione da non sottovalutare. L'abbiamo lanciata in maniera molto light, quindi non parliamo di remote working guai, non parliamo di telelavoro guai, il nostro responsabile delle relazioni industriali ci ucciderebbe al momento. Parliamo di un modo diverso di lavorare, dove io scelgo dove lavorare, ovviamente tutti i dipendenti, è stato lanciato per una categoria di dipendenti ovviamente che si poteva permettere questo tipo di lavoro, quindi noi siamo circa 7000, l'abbiamo lanciato su 3000 che sono le persone dello staff, dell'amministrazione, eccetera, quindi negozi e call center per motivi oggettivi è impossibile. Ed è stato molto apprezzato, la criticità maggiore che abbiamo avuto sul lancio dello smart working riguardava proprio i manager, i manager quindi questo salto culturale di non avere più le persone lì a disposizione nell'open space a cui chiedere e organizzare la riunione dell'ultima ora, la call dell'ultima ora, ma effettivamente riorganizzare il lavoro perché all'interno del proprio team qualcuno mancava. Abbiamo organizzato dei corsi di formazione sulla sicurezza obbligatori, con tanto di firma di certificato, quindi chiunque voleva approfittare di questo benefit, non è welfare ma è un benefit, almeno per noi, doveva obbligatoriamente partecipare a questi corsi di sicurezza e dei corsi anche per i manager che avevano la necessità di fare appunto quel salto culturale di cui stavamo parlando, di cui parlava anche l'avvocato, no? Quindi noi lavoriamo da sempre per obiettivi però è difficile dall'oggi al domani riorganizzare tempi, metodi, eccetera. All'inizio, come tutte le prime esperienze, un po' di difficoltà, quindi ah non posso organizzare quella riunione perché sono in smart working, oggi invece non c'è problema, facciamo una video, una call, quindi noi in realtà gli strumenti ce li abbiamo, come la maggior parte delle aziende che sono qua sedute rappresentate oggi, una video call, strumenti in mobilità li vendiamo per cui è anche un modo per testarli ed è un modo soprattutto per dare una risposta a quello che spesso le nostre persone ci chiedono, quindi la flessibilità, la libertà, il potersi gestire anche il proprio lavoro da casa o da qualsiasi altro luogo. Io faccio un po' fatica a separare le risposte alle due domande, per cui volevo chiedere se potevo magari prendermi un po' di più in questa fase qua e passare a quella dopo. Noi in realtà siamo un'azienda molto piccola anche in questo contesto per cui faccio questa premessa, non abbiamo niente di speciale da raccontare se non eventualmente la volontà di descrivere un approccio che ci ha portato ad avere alcune pratiche all'interno dell'azienda che adesso provo a descrivere. L'approccio è molto semplice e tra l'altro è molto generico e ha poco che fare di per sé con l'azienda e riteniamo che sia un modo di vedere le cose che dovrebbe un po' accomunarci a prescindere dal contesto in cui si opera. Quindi nel campo personale, professionale, di vita pubblica, in qualunque contesto appunto in cui ci si ritrova. E si parte tutto da una frase a cui noi teniamo particolarmente, cioè un impegno che tutti quanti noi dovremmo lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. E nel tentativo di lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato, cercare sempre le soluzioni che creano valore. Ci sono tante idee dietro ad ogni scelta che uno deve compiere e spesso ogni scelta che uno deve compiere pare essere guidata dalla necessità di trovare qual è la soluzione che più, cioè che massimizza il valore della parte che si rappresenta. Spesso ci si dimentica che in realtà è il valore da massimizzare, non è quello della parte che si rappresenta ma dell'insieme. Se si guarda la cosa da questo punto di vista si riesce a vedere anche tutte le opportunità di creazione di nuovo valore mentre invece si rimane chiusi nell'ottica che il valore che io guadagno è una perdita dell'altro e è difficile che si riesca a trovare quelle nicchie, quei luoghi dove il valore si crea. Perché parto da questo concetto? Spiegando anche tra l'altro un po' meglio quella frase di rendere il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. È una frase che sembra un po' anche utopica oppure sembra un po' troppo grossa ma c'è quella parola po' che ci tranquillizza, nel senso che non dobbiamo cambiare il mondo anche perché se fosse questo il nostro obiettivo rischierebbe di essere l'alibi perfetto per non fare nulla. L'impegno nostro è semplicemente trovare quel po' che possiamo fare noi per renderlo migliore e in quest'ottica si inserisce dal nostro punto di vista sia il welfare all'interno dell'azienda che anche all'esterno quindi sul territorio quindi nel mondo che ci circonda quindi la prima parte di mondo che ci circonda è quella appunto dei nostri collaboratori, delle persone con cui lavoriamo tutti i giorni, dei nostri colleghi e però il mondo che è appena fuori è comunque parte di questa stessa logica per quello che le due domande sono così ben correlate una con l'altra. Per cui partendo da questa cosa ci siamo subito concentrati all'inizio quando eravamo in pochi, 4 o 5 persone, siamo nati una decina di anni fa e siamo un'azienda che si occupa di gestire un motore di comparazione prezzi online. Il nome del motore è Trova Prezzi e quindi è un'azienda che lavora tutta su internet, un'azienda per sua natura con molti programmatori, molto giovane perché anche sono quasi tutti persone neolaureate con anche tanti bambini ma in una fascia di età estremamente piccola perché appunto l'età media è molto bassa sia per le ragioni di poca storia della nostra azienda che per la tipologia di lavoro. Non abbiamo problemi per esempio sul mondo online quindi la comunicazione dal nostro punto di vista è tutta online, è tutta via mail e quello che ci siamo concentrati quindi è quello di cercare di rendere il posto di lavoro il più sereno e piacevole possibile. La prima cosa che dovevamo fare era metterci nella predisposizione per fare questo e il primo lavoro era sulle persone, intanto su noi stessi, eravamo in pochi, si poteva fare, anche l'esempio poteva portare parecchio. Poi nel crescere ci siamo sempre posti il problema di dobbiamo trovare una sede nuova e abbiamo cambiato 4-5 sedi nel percorso e questo cambio ogni due anni di una sede ci ha messo nelle condizioni di cercare sempre di trovare le soluzioni migliori, sempre in quest'ottica, cioè quello di mettere tutti nelle condizioni di vivere, di passare quelle otto ore che mediamente si passano tutti i giorni peraltro le migliori della giornata nella maniera e nella forma migliore possibile. Per cui abbiamo preso un bel pezzo di terreno vicino al baricentro delle abitazioni dei nostri collaboratori, quindi abbastanza vicino alla zona di Pavia dove poi noi stiamo, quindi appena fuori in provincia di Pavia abbiamo preso 35.000 metri quadrati di terreno che abbiamo convertito in un parco, abbiamo fatto un bosco, adesso stiamo aspettando che la natura faccia soccorso perché chiaramente le piante hanno bisogno del loro tempo per crescere, un percorso d'acqua, un laghetto per poter fare dei giri in canoa e per poter facilitare l'ingresso poi e l'arrivo anche di animali e un sacco di attenzioni per quanto riguarda gli spazi esterni ad uso appunto dei nostri collaboratori come il campetto da calcetto, campetto da basket, da pallavolo, da tennis e all'interno invece dell'edificio abbiamo cercato di costruire un edificio che potesse ricordare un po' la cascina lombarda come forma e come struttura e potesse avere al suo interno anche gli spazi per l'aggregazione, per il relax, quindi c'è una palestra, una sala per ping pong, biliardino e poi una zona per il servizio mensa. Purtroppo attualmente non eravamo nelle condizioni di poter fare la cucina interna, stiamo per costruire una nuova ala dell'edificio e ci sarà poi presto la cucina interna e questo è pure uno spazio importante sia per l'aggregazione che per avere un luogo, un momento per poter stare insieme, per poter tra l'altro mangiare anche nella maniera anche più corretta possibile, abbiamo una forte attenzione in questo senso. L'attenzione appunto non vogliamo si limiti solo al bene solo dei collaboratori, se si riesce a creare il bene dei collaboratori, cercando di massimizzare il valore che si crea anche al nostro intorno, quelle sono le scelte che abbiamo cercato di prediligere. Un aspetto su cui abbiamo cercato di mettere parecchie attenzioni e non per ragioni ideologiche o religiose, ma perché riteniamo davvero che lì ci sia un enorme valore, ma per la collettività tutta, non per il bilancio di 7 pixel, è per esempio essere realmente felici per l'arrivo di una qualunque nuova nascita all'interno dell'azienda. Per cui cerchiamo di anche dimostrarlo in tutti i modi, dimostrandoci apertissimi a qualunque forma di flessibilità nel cambio delle richieste di orario per il periodo, è una fascia che sia per le madri che per i padri, più tipicamente delle madri, ma a volte anche il padre desidera avere nel periodo iniziale della nascita e della crescita del figlio o della figlia, un maggior tempo a disposizione per l'attenzione ai loro figli. Ma l'attenzione ai figli, noi non abbiamo ancora una massa critica per poter giustificare un asilo nido interno, abbiamo visto che c'era questa possibilità di finanziare e di pagare e appunto dare un contributo per l'asilo nido e abbiamo un contributo mensile per ogni figlio per l'asilo nido, in qualunque appunto asilo nido venga portato. Anche noi abbiamo messo un contributo per i libri scolastici, però tutta la logica era legata a questo. L'obiettivo è di creare un luogo, cioè di dimostrare quanto siamo contenti di questi nuovi arrivi e vorremmo dimostrarlo anche ai più piccolini e anche per questo abbiamo deciso dall'anno scorso di iniziare i centri estivi all'interno della nostra struttura per più ragioni. La prima perché appunto il centro estivo è un bisogno che spesso le famiglie hanno, specie nel periodo di agosto dove è più difficile trovare, specie per le realtà diciamo più periferiche magari in Milano no, però per le realtà come Pavia è più difficile trovare delle soluzioni e il centro estivo, invernale o pasquale, quindi degli educatori che vengono all'interno dei nostri uffici ci sono degli spazi apposta per i bambini durante tutto l'anno e durante quel periodo i ragazzi, i bambini più piccoli vengono perché poi ci sono degli educatori, quindi sono seguiti, hanno anche tutto lo spazio esterno per poter giocare e vengono e stanno tutta la giornata lì con noi, mangiano insieme i genitori e questo è un aspetto positivo perché ha generato diversi ritorni piacevoli. Uno che il genitore si sente più tranquillo, il figlio è lì, sa che non c'è problema e effettivamente lavora e si sente di lavorare meglio. Per il figlio è una bella cosa vedere il luogo di lavoro del papà o della mamma normalmente il luogo di lavoro del papà o della mamma, io parlo per i miei figli è il luogo di lavoro, è una cosa brutta e negativa, cioè qualcosa che toglie il tempo di papà o di mamma alla casa e quindi a loro. Il fatto di vedere che questo luogo non è poi così malvagio è una cosa che aiuta anche i figli a vedere l'uscita del papà o della mamma la mattina e il ritorno del papà o della mamma la sera come qualcosa perlomeno di conosciuto e quindi di diverso. Inoltre c'è il fatto che il legame che si crea tra di loro crea anche legame forte tra i collaboratori quindi tra i loro genitori e questo porta dei benefici anche grossi all'interno del clima aziendale che è una delle cose a cui dobbiamo stare attenti. In maniera più soft perché non è così diretto però è una conseguenza positiva di questo tipo di attenzione. La festa di Natale, tutti i Natali facciamo una festa per i bambini e anche i bambini sanno che c'è un dono, un regalo per loro e di questo loro ne sono contenti semplicemente perché appunto questo luogo tipicamente cattivo come appunto è il luogo di lavoro del papà e della mamma in realtà pensa a un regalo, un dono per loro. Per cui poi piccole cose come magari due giorni in più di paternità pagata ai padri che hanno in arrivo un figlio e questo qua è tutto quello che riguarda l'attenzione alla maternità ma la logica è sempre la stessa. Il fatto di essere felici se si aiuta a creare un maggior valore il maggior valore non quello che è legato alla parte nostra non quello legato a Sette Pixie, non quello legato a nostra azienda ma legato al sistema un pochettino più generale che ci sta attorno. L'attenzione all'ambiente, l'attenzione all'ambiente ha questa stessa identica logica. Ci sono tante le iniziative legate a questo aspetto. Noi come dicevo prima non abbiamo la cucina interna prima avevamo tutto trasportato abbiamo abolito ogni tipo di forma di plastica nel trasportare il cibo all'interno dell'azienda e questo qua per noi è stato un cambio che ci ha messo nelle condizioni di dover creare un luogo per poi il lavaggio di tutte le stoviglie e tutto però ci ha permesso di risparmiare parecchia plastica e parecchia carta. Anche i distributori automatici di caffè abbiamo abolito tutta la plastica mettendo tutte le tazzine in vetro a fianco delle cucchiaini di metallo e il caffè dell'Eco e Solidale perché così anche con quei piccoli gesti potevamo dire di poter stare attenti e questo qua aiutava non solo nell'acquisto in sé del caffè ma aiutava anche a favorire la sensibilità a questi temi su cui spesso non ci si riflette. Un altro degli aspetti che per noi era importante era la mobilità. Ci siamo resi conto che il parcheggio che avevamo all'interno dell'azienda si era rapidamente riempito e abbiamo cercato di pensare quali erano i modi per poter abbattere questo numero di macchine che arrivavano in azienda e la prima cosa che abbiamo pensato visto che siamo abbastanza vicini alla media dei collaboratori è abbastanza vicina al luogo di lavoro una decina di chilometri mediamente di poter incentivare l'uso della bicicletta per cui a tutti coloro che potevano permettersi di abbandonare la macchina gli veniva data in dono una bicicletta elettrica una bicicletta elettrica pedalata assistita e tutti coloro che non potevano avere una bicicletta perché qualcuno viene da un po' più distante oppure deve passare a portare i figli prima di venire al lavoro abbiamo cercato di incentivare quelle scelte tipo la conversione della macchina con il metano e abbiamo messo un distributore di metano interno all'azienda così che tutti possano fare il pieno durante l'orario di lavoro e sulla stessa cosa legata al distributore di macchine elettriche anche lì c'è un rifornitore c'è la possibilità di rifornire la macchina in realtà ripeto davvero sono tutte le cose in fondo neanche tanto grosse che ci sono venute in mente ma semplicemente per seguire quella logica di fondo e la logica è molto semplice ed era chiusa in quelle due frasi con cui siamo partiti poi c'è il servizio Navetta da Pavia in particolare dove c'è la maggior parte dei nostri collaboratori c'è una navetta che due volte al giorno passa passando anche dalle due stazioni vicine a recuperare le persone e una ventina di persone tutti i giorni usa quel servizio che è una cosa che anche quella appunto aiuta a minimizzare l'impatto anche sempre sull'ambiente abbiamo cercato di avere e di costruire in classe energetica A l'edificio abbiamo preso e abbiamo costruito i pannelli solari fotovoltaici per poter garantire la copertura totale del consumo di energia elettrica che abbiamo poi dell'azienda quindi produciamo più energia di quella che consumiamo e poi piccole cose tipo le lame d'aria per asciugarsi le mani e quindi cercare di risparmiare sulla carta ma sempre il risparmio non è economico ma è ecologico cioè in tutte queste attenzioni così come la carta riciclata e così come la geotermia per esempio per il riscaldamento l'altro aspetto più legato al territorio e quindi all'attenzione anche a tutto ciò che sta attorno a noi e anche nelle piccole cose ci siamo resi conto che se qualche piccola scuola anche una scuola professionale chiedeva la possibilità di fare uno stage da noi davamo la possibilità effettivamente di farlo anche se è difficile che uno stage a quell'età possa produrre un beneficio per un'azienda come la nostra che è altamente specializzata su alcuni temi però abbiamo valutato che il valore che veniva lasciato a questo ragazzo questa ragazza era così alto e molto più alto di quello che poteva essere il costo nostro e quindi abbiamo appunto avviato e abbiamo sempre dato piena disponibilità a tutti gli stage di ogni ordine e grado chiaramente nel limite consentito dallo spazio ecco quindi contemporaneo però dalle scuole professionali fino all'università e così come anche spazi per stage borse di lavoro per associazioni o comunità per magari per facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro anche semplicemente se non potevamo poi reinserirlo in forma definitiva da noi per poter però far vivere un'esperienza a qualcuno che stava attorno così come la costituzione di alcune scuole e di formazione soprattutto nel campo dell'informatica oppure alcune sessioni di invece scuole magari per imprenditori nelle start up oppure abbiamo anche fatto ospitato non so se qualcuno di voi conosce il Coder Dojo che è un'iniziativa di un irlandese che poi l'ha portato anche qua in Italia di insegnare in una forma ludica l'informatica ai bambini per cui i bambini fino a 14 anni da 8 a 14 anni che durante il sabato mattina venivano appunto in azienda noi a imparare a fare piccoli programmi in una forma molto semplice non col codice così come siamo abituati noi e più o meno questo qua poi appunto sugli spazi più o meno questo qua è quello che abbiamo cercato di impostare in questo periodo e fino a questo momento ci siamo resi conto che ci sono alcune cose e chiudo sulle due cose sul futuro ci sono alcune cose che ancora mancano uno è che ci siamo resi conto che tutto lo spazio esterno è ancora poco sfruttato e probabilmente è poco sfruttato perché non siamo stati in grado di liberare le energie che in realtà all'interno della nostra azienda sappiamo poter esserci per cui ci stiamo attrezzando per favorire la costituzione di una sorta di Kral mi viene da chiamarlo ma un'associazione di lavoratori un gruppo di lavoratori che gestisce in pena autonomia tutti gli spazi che l'azienda poi ha con l'intento e l'obiettivo di massimizzarne il valore che sono in grado di produrre visto che sono lì a disposizione quanto più sono usate quanto più siamo contenti anche durante il fine settimana per intenderci e un'altra cosa che abbiamo in animo di fare facciamo delle attività anche magari di donazioni per associazioni ci piaceva l'idea che se riusciamo però questa è solo una cosa che abbiamo in testa non l'abbiamo messa in pratica di poter dare l'opportunità a chi lo desidera di investire mezza giornata del suo orario di lavoro per qualche iniziativa di volontariato l'ideale sarebbe riuscire a poter mettere in gioco le competenze e anche la struttura dell'azienda magari con la collaborazione di altri per fare qualcosa di volontariato in un campo in un settore dove noi ci possiamo muovere bene che è quello online quando abbiamo messo a punto tutte queste cose ci siamo resi conto che però su tante cose peccavamo e una di queste era l'organizzazione adesso proprio stiamo cercando di mettere perché poi alla fine quando ci sono anche tutte queste anche facilitazioni poi una persona sta bene quando si rende conto di poter far bene il suo lavoro qualcuno che viene la possibilità di sentirsi gratificato anche da qualcun altro per il lavoro che ha fatto e quindi anche trasparenza e autonomia nel lavoro e ci siamo resi conto un po' per colpa del fatto che siamo cresciuti forse troppo in fretta che avevamo bisogno di metterci una forte di mettere una forte attenzione in quel settore stiamo adesso mettendo a punto e questo è un test un sistema che avevamo trovato interessante per adesso solo sui libri che non so se avete mai sentito parlare di Olacracy e stiamo provando a testare questo sistema di organizzazione molto fletta e molto flessibile che sembra sulla carta avere tutte le caratteristiche per liberare tutte le energie che possono venire fuori da un'azienda anche piccola come la nostra grazie 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 a tutti